Gab ti sto donando i miei ultimi spicci, così non li spendo in sostanze stupefacenti, grazie Gab, quando diventerò un miliardario mi ricorderò di te. Non fate uso di sostanze stupefacenti, è sbagliato. Grazie per i 100 beats G23x. Attenzione, attenzione, il gabbrone che è la piccolino SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK73737373727 triple codio. Ehm... Ciao ragazzo dietro hai una faccia da schiaffi e una tipa molto scopabile Porco dio porco dio s a s Mi dissocio completamente da questa oggettificazione delle donne Mi dissocio completamente chissà che chissà che bocce avrà la ragazza con il giacchetto nero sksksksksksksksksksksksk scusate scusate ragazzi eh? fai delberetto ma fai delberetto leva questa cosa ne questo nervocello no ok me la dà no 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 queste le dà va bene ok stai tranquillo stai tranquillo no scusate stai scusando no ti ho chiesto prima si tira fastidio se no mi chiede tutto in mezzo a giugno No, no, infatti, mi perdonati, più che altro non sono io a decidere quello che scrivono. Va bene, perdonami, perdonami. Tranquil, posso offriti quello che hai preso per... Va bene. Scusami, caro. Ti ripiccherei volentieri. No, mi dissocio dalla violenza, Asci. Sei di Napoli, tu? No, perché io ho i parenti a Napoli pure. Siamo compaesani, mi sa. Napoli fuori dall'Italia ora. No, 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 mi dissocio. Bellissima città, Napoli, ragazzi, dai. Ragazzo con la felpa bianca tagliata... Oh, no, mi dissocio completamente, dai, Nicola, dai, fai il serio, Nicola. Ma domanda, cosa che significa faux chess? Giusto per capire cosa mi hai detto, vorrei capire cosa significasse faux chess. Vabbè, eh... Ragazzi e ragazze seduti al bar, questo ragazzo è Gab, detto il Gabrone, è uno dei più mitici influencer del web. Oggi è il vostro giorno fortunato. E comunque viva il Sud Italia. Napoli è il top. Basta con questo scherzo. È divertente, all'inizio va bene, però ora basta, stai esagerando. No, perdonami, più che altro non sono io a decidere quando arrivano questi messaggi. Allora, se vuoi, lo risolvo io il problema. Mi dai due secondi, lo risolvo io, senza problemi proprio. Cioè, come... Ci penso io, tu non ci devi preoccupare. Se tu mi dici, ti vuoi affidare a me, ci mettiamo due secondi e lo risolviamo. No, no, tranquillo, ma... Non riesci a calmarlo, a risolverlo io? Posso calmarlo, posso risolverlo io, senza problemi? No, no, passa, leva l'audio, leva questa cosa. Ma ti spiego, da contratto, da contratto, da contratto io non posso. Se non vuoi avere quattro problemi così, devi continuare così, vediamo l'altra parte, sinceramente. No, perché sei simpatico, l'abbiamo, anche l'assimente, lo puoi passare. No, lasci, no, mi dissocio da sta cosa, dai. Ma vai, picchiatelo a Napoli, fa schifo. Vedo il telefono e non gestisco io, vediamo se è simpatico, poi. Chiaro, chiaro, chiaro. No, ragazzi, mi dissocio da ste cose qua, ragazzi, fate le persone tranquille. Perdonami anche te, caro, va bene, va bene.